C'è un sacco di roba da fare, posso ancora fare tre anni di giudice, dieci di direttore artistico, uno da percorretto, quindi magari ancora 15 anni, non lo so, no, 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 non sarà la mia ultima finale, perché sì, cioè contagiamente ci sono, però le parole prese sono più importanti e poi ho posto bene, quindi rimando un po' per me.